Ciao a tutti, sono Gabelli di Salto in Basso, in questo video siamo qua su Atletic Summer Sport e gareggeremo nelle varie discipline dei salti. Direi di iniziare subito con la prima gara, ovvero quella del salto in lungo. Qua ci troviamo sempre a gareggiare per l'Italia. Allora, bisogna apparente fare una rincorsa e correre come nei 100 metri del scorso video e staccare con la giusta angolazione e la giusta distanza dalla pedana. Iniziamo con la rincorsa che dovrebbe riuscirci bene. Vediamo, devo cercare di staccare alla perfezione, alla giusta angolazione, c'è 8,61 metri, già è un buon risultato. Vediamo come siamo rispetto agli altri, ovviamente i primi perché noi siamo i migliori. Però il primo salto è sempre quello, insomma, che si salta di meno, dopo invece si migliora. Cerchiamo di fare ancora meglio. Puntiamo al record mondiale, qua il primo posto, che abbiamo già. Vediamo, c'è per 8,41. Vabbè, comunque è buono, dai. Però possiamo fare di meglio, me lo sento. Alkenia ci ha superato, siamo al secondo posto. Non possiamo farci superare da altre persone, da altre nazioni. Andiamo a fare di più di 8,41 assolutamente. Vediamo come l'incorsa c'è. Stacco c'è, 8,43. È un po' meno, vabbè. Però dai, è sempre un buon risultato. Rimaniamo al secondo posto. Già che siamo sul podio, è un gran risultato. Vediamo la premiazione. Dove ovviamente ci siamo. Ah no, però c'è l'inno del Kenya. No, no, andiamo avanti, dai. Voglio il nostro inno. Nella prossima, ovvero nel salto in alto, dai. Spero di fare di meglio, visto che nel salto in alto l'Italia è sempre messa bene. Basta vedere i tamberi. Cioè, che grandi risultati abbiamo. Che oggi batteremo. Spero. No dai, 2,39 si può fare. Iniziamo con 2,10. 2,10. Dai, dovrebbe essere facile. Mi è saltato male, però era basso e quindi ce l'abbiamo fatta. Ma immagino che anche tutti gli altri avranno fatto 2,10. Ecco, ovviamente l'ha superato tutti, anche l'Australia. Cavolo. Però adesso dai, con 2,24 inizia ad essere un po' più difficile. Ma per noi non è impossibile. Abbiamo... Ecco, questo è buono. Ah, sfiorata, ma non è caduta. E questo è quello che conta. E 2,24 superato. Ecco, l'Australia è uscita, anche la Nuova Zelanda, credo. Siamo rimasti in 6. Ed è già meglio. Ma cerchiamo di migliorare ancora. Arriviamo a 2,36. Ecco, ora mi sa che inizia ad essere difficile. Però noi non ce la rendiamo. Ne andiamo avanti. Cavolo. Eh, iniziano ad esserci problemi. Però abbiamo altri due tentativi, quindi... Non preoccupiamoci. Eh, l'ha passato soltanto in due, quindi... Vuol dire che, insomma, inizia ad essere difficile. Non devo mollare. Mi sa che devo arrivare più veloce. Beh... Cavolo, però è arrivato veloce. L'angolazione è giusta? Perché non ce l'ho fatta? Oh, devo fare ancora meglio. Vabbè, abbiamo un altro tentativo. Dai, devo farcelo assolutamente. Arrivare a massima velocità. Ancora più di prima. No, eh, vabbè. Vabbè, dai. Salto in alto. Pazienza. Però è andato bene nel lungo. E ora cercheremo di rifarci nell'asta. Quinto posto. Vabbè, dai. Almeno non siamo arrivati ultimi. No, le prime azioni non le guardo neanche che... Ma andiamole subito avanti che non ci siamo nemmeno. No, 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 no. Non mi interessa. Passiamo all'asta. Qua dobbiamo assolutamente ottenere un buon risultato. Dai, almeno l'asta. Vabbè, più o meno... Il metodo è simile. Vediamo un po', però... Mi sa che... Secondo me è più difficile. Vediamo... Ma come rincorsa c'è lo stacco che ho sempre problemi. Vabbè, 5.37 ci siamo. Beh, perché per essere la prima misura mi sembra già tanto. Infatti, però l'han superata comunque tutti. Vediamo la prossima. 5.84. No, secondo me anche questa ce la possiamo fare. No, ma invece no. No, vabbè, abbiamo sempre altri due tentativi. Come nel salto in alto. Quindi... Non mi devo rendere. A Brasile e Stati Uniti però ce l'hanno fatta. Vediamo. Beh, dai. Mi sembra buono. Ecco, infatti ce l'abbiamo fatta. E anche il 5.84 ce l'abbiamo fatta. Vediamo. Siamo rimessi soltanto in tre. Quindi, almeno sul podio siamo. Dai, dai. Dai che ci sta. 5.96. Quasi 6 metri. Questa sarà difficile. Ma sicuramente non impossibile. Eh, invece... No, proprio nullo. Non sono neanche arrivato. Eh, ma perché è difficile prendere... Cioè saltare al momento giusto. Eh, Brasile e Stati Uniti ce l'hanno anche fatta. Vabbè, ma tanto abbiamo due tentativi. Non ci dobbiamo rendere in questo modo. Vediamo. E devo cercare di farlo... Beh, dai. Mi sembra buono. E infatti, buonissimo. Superato. 5.96. Che credo sia anche record italiano. Tra l'altro. La dobbiamo superare il Brasile e gli Stati Uniti assolutamente. Almeno qua dobbiamo vincere. 6.05. Cavolo, qua è difficilissima. Eh, vabbè, infatti. Infatti si vede. Però dai, possiamo... Ma come ho fatto a farlo? No, ce l'abbiamo fare anche noi. Ma forse è la velocità che devo prenderne di più. Devo arrivare fino al massimo. No, no. E invece mi sa che è lo stacco. Ma infatti questa volta... Dai, ci rimane soltanto l'ultimo tentativo. Assolutamente da fare. Andiamo. Ma come è possibile che sbaglio sempre? Eh, anche qua no. L'ho preso troppo male. E vabbè. Però se abbiamo comunque fatto il terzo posto. Quindi, comunque siamo sul podio. Che è questo quello che conta. Andiamo un po'. La prima azione questa volta è andata. La vediamo. Comunque ci siamo. Ottimissimo. Vai dai. 6.05 è comunque record italiano, eh. Va bene. Comunque... Vorrei dirvi... Il video finisce qua. Noi ci troviamo ai prossimi episodi. Alla prossima. Ciao. Ciao. .